Durante una recente trasmissione su Rete4, Andrea Giambruno ha scatenato una nuova ondata di polemiche con le sue dichiarazioni riguardanti i migranti. Il giornalista, noto per essere il compagno della premier Giorgia Meloni, ha utilizzato un termine che solitamente si applica agli animali per descrivere il fenomeno dell'immigrazione, definendolo una «transumanza». Durante la trasmissione «Diario del giorno» dedicata al compleanno di Silvio Berlusconi, Giambruno ha fatto un lungo elogio del fondatore di Forza Italia, definendolo un «formidabile visionario geopolitico» e affermando che aveva già compreso il fenomeno migratorio come una sorta di «transumanza dall'Africa all'Europa». Questa affermazione ha scatenato un'ondata di indignazione sui social media, dove molti utenti hanno criticato Giambruno per l'uso inappropriato di un termine che solitamente si riferisce allo spostamento di animali di grossa o media taglia. Alcuni lo hanno accusato di razzismo, mentre altri hanno sottolineato l'inopportunità delle sue dichiarazioni. Questo episodio non è il primo a cui Giambruno è stato al centro delle polemiche. In passato, aveva già attirato l'attenzione per le sue posizioni sul cambiamento climatico, che erano state interpretate come negazioniste, e per i suoi commenti sullo stupro di gruppo a Palermo, che avevano sollevato una forte reazione negativa. Le dichiarazioni di Giambruno hanno suscitato un dibattito sulla responsabilità dei personaggi pubblici nel scegliere le parole con attenzione quando affrontano argomenti delicati come l'immigrazione. La sua affermazione ha portato molte persone a riflettere sul modo in cui si parla dei migranti e sull'importanza di trattare questo tema con rispetto e sensibilità. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news, lascia un mi piace al video, e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere, e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.